Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Nel pomeriggio tra le 16 e le 18 e 30, corteo storico a Monti Tiburtini e possibili temporanee deviazioni per le linee di bus 61, 111, 542, 544 e 548. Sempre nel quadrante est della città, festa patronale a Centocelle con chiusura al traffico nell'area di Piazza San Felice da Cantalice e un cambio di percorso per le linee di bus C5, 106, 450, 542, 548 e di notte NMC. Infine, questa sera dalle 20.45 all'Olimpico Roma-Genoa. Il piano trasporto pubblico per lo stadio è su romamobilita.it. Il piano trasporto pubblico per lo stadio è su romamobilita.it. Il piano trasporto pubblico per le linee di bus